Benvenuti amici di mobileOS.it, siamo qui con il Huawei G750 a provare un pochino come si comporta con i video Un video che vengono girati in full HD, vediamo un pochino anche come va con i vari cambiamenti di luce Eccolo qua, e magari proviamo ad andare a chiudere sempre su qualcosa di più ravvicinato Magari vediamo un po' su questi oggetti qua, messa a fuoco non eccezionale nelle foto e nemmeno nei video mi sembra non proprio incredibile per quanto riguarda i soggetti ravvicinati